Le Marche sono al terzo posto in Italia per il numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione dietro a Liguria e Molise. Infatti i dati parlano di 47.3% della popolazione che ha iniziato la profilassi, di cui il 16% che ha già chiuso il percorso ricevendo la seconda dose. Ieri ha preso il via l'attività di somministrazione dei vaccini alle persone di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Si tratta di circa 235.000 marchigiani, mentre domani, mercoledì 19 maggio, a partire dalle ore 12, potranno prenotarsi gli over 40. Uno dei centri più importanti delle Marche è quello di Piediripa, che è stato inaugurato lo scorso 8 aprile dal generale Figuolo e che non copre soltanto la città di Macerata, ma anche altri 22 comuni della provincia. La media dei vaccini è intorno ai 1.000 al giorno, possiamo arrivare anche a 1.200, alcuni giorni abbiamo fatto anche 1.240, quindi la situazione vaccinale sta crescendo. È logico, bisogna che arrivano tutti questi vaccini. Da come ha sentito il generale Figuolo vuole fare l'immunità di gregge per fine estate e anche qui a Macerata arriveremo a vaccinare un 70-80% dei 22 comuni della comune Macerata che dovevamo vaccinare qui a Macerata. Nel Fermano il direttore protempore dell'area Vasta 4, Nadia Stortici, ha fatto la panoramica su come sta andando la vaccinazione in quella zona. Abbiamo vaccinato in area Vasta 4 tutti gli over 80, sono rimasti un piccolo numero a domicilio che in genere sono gestiti dai medici di medicina generale. Abbiamo fatto la popolazione 70-79 e siamo ad una percentuale molto elevata e naturalmente i 65-69 abbiamo iniziato da poco perché i vaccini che sono arrivati li abbiamo un pochino tenuti per le seconde dosi. Abbiamo un centro a fermo molto importante dove vacciniamo direttamente con il nostro personale e una serie di ambulatori vaccinali di prossimità i cui numeri non sono molto numerosi perché possono andare da 20-30 a 100 al giorno però importanti perché sono vicino al soggetto anziano e quindi evitano di spostarsi da una parte all'altra dell'area Vasta 4. Per quanto riguarda i cosiddetti centri di prossimità la prospettiva sembrerebbe essere quella di chiuderli ma non è questa l'opinione del direttore Nadia Stortici che invece vede nei centri di prossimità una grande risorsa anche per il futuro. Io non sono per la chiusura di questi centri, anzi sono per un ulteriore sviluppo di questi centri perché noi adesso stiamo vaccinando i anziani, vaccineremo i giovani, abbiamo vaccinati i fragili ma questa campagna vaccinale non finisce qui. Probabilmente sarà necessario anche nei prossimi anni un ulteriore richiamo magari associato con l'antinfluenzale per cui è importante che questa macchina organizzativa che è stata messa in piedi non venga abbandonata perché poi l'efficacia della vaccinazione è quella di farla il più rapidamente possibile e in tempi stretti quindi più sono gli operatori che ci lavorano e meglio è.